Noi sappiamo cos'è la dignità dell'uomo, abbiamo costruito la nostra storia e la nostra identità su questa base. Oggi sappiamo che la globalizzazione, potente motore di progresso, capace di far uscire centinaia di milioni di persone dalla miseria, ha anche creato squilibri insopportabili. Milioni di poveri interpellano la nostra responsabilità di governo. La crisi economica del 2007-2008, la peggiore dal dopoguerra, ancora si fa sentire in termini di bassa crescita e di disoccupazione. Di fronte a queste sfide noi abbiamo il dovere di individuare soluzioni comuni. Il viaggio dell'Europa è partito molto tempo fa. È un viaggio al centro del quale ci sono idee, culture e valori differenti. È un viaggio nel quale la cristianità ha un posto importante. Siamo l'Europa di San Benedetto, l'Europa di Cluny e delle altre mille abbazie e cattedrali dove si conservavano e custodivano i fondamenti della nostra cultura. Siamo l'Europa dell'umanesimo, del rinascimento. Siamo l'Europa di Blaise Pascal. Siamo anche l'Europa dell'illuminismo, della ragione come idea fondativa dello sviluppo umano e strumento iniziale delle nostre scelte. Noi europei, credo, traiamo ricchezza proprio da queste numerose e differenti radici. La Chiesa, la Chiesa cattolica, ci ha spesso esortati a rafforzare il dialogo tra i popoli. Ricordiamo l'esempio di San Giovanni Paolo II e il suo impegno incessante per riunire quelli che spesso definiva i due polmoni dell'Europa, l'Est e l'Ovest. E la Chiesa ha spesso incoraggiato anche lo stesso processo dell'integrazione europea. Papa Paolo VI definì realtà magnifica la costruzione della nuova Europa. L'Unione non deve essere solo l'Europa dei parametri numerici, deve essere soprattutto l'Europa dei valori, nella ricchezza della diversità, degli esempi morali, delle idee. Lei, Santità, ha ricordato spesso la profondità delle sfide attuali, esortando a considerare il momento storico che viviamo non solo come un'epoca di cambiamento, ma come un cambiamento di epoca. Noi europei cerchiamo di essere consapevoli della portata dei mutamenti in corso e vediamo affiorare alcuni fenomeni preoccupanti che spesso si manifestano nei momenti difficili, il rinchiudersi nei confini nazionali, il considerare il diverso come un nemico e la solidarietà come un disvalore. Sappiamo bene, quindi, che dobbiamo ritrovare lo slancio che ci ha portati a tante conquiste. E domani, da Roma, vogliamo ripartire da alcuni dei punti fondamentali. And I will now switch into English for our friends, head of state and government. We need new ideas and solutions to respond to today's challenges. We have to do uri in corso, especially for our youth, the EU's millennials. They are the first European Union native, the best educated generation of the European. The best educated generation of the European Aspents, the commission of the European and the first generation of the European, and the first generation of the European that has many opportunities quelli an European than those of them. They are the first generation of the European con un'amico che si tratta di un'amico l'amico e l'amico è stato un'amico un'amico che è stato un'amico per il nostro conflitto e l'amico l'amico e l'amico il c'è una un'amico 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 l'amico e l'amico e l'amico ha un'amico un'amico e le creiamo che si quattro E' un'altra cosa che abbiamo avuto, è un'altra cosa che abbiamo avuto un'altra cosa. ma attenzione e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione la nostra città per l'immagine l'immagine che è stato un po' di attenzione e non voglio l'immagine la città di attenzione l'immagine l'immagine laагli com'e la l'immagine l'immagine che l'immagine la l'immagine la la l'immagine Mرة أخرى بأن نتذكر من نحن نحن أوروبا التي قامت من رماد حربين عالميتين وموقع معهدات روما نجح في أن يصبح أسرة كبيرة من 27 دولة نحن أوروبا التي قامت بحركات كثيرة في عام 62 في رامس وحضرنا صلاة في كنيسة كادت أن تدمر بالكامل في الحرب العالمية الثانية نحن أوروبا في عام 1989 في الثورة البنفسجية نحن أوروبا 2004 الذين أعدنا التوحد مع أسرتين التي كانت متقابلتين نحن اليوم هنا في العاصمة رحلة مستمرة ومتميثة بالتنوع بمئة لغة وألف مدينة وطرق لا نهاية لها تزمع بين أنحاء أوروبا رحلة بدأت منذ وقت طويل وتستمر اليوم باسم قيم السلام والعدل والنماء قيم العالم ككل شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قبل Grazie a tutti. Illustri ospiti, vi ringrazio per la vostra presenza questa sera alla vigilia del sestantesimo anniversario della firma dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica. A ciascuno desidero significare l'affetto che la Santa Sede nutre per i vostri rispettivi Paesi e per l'Europa intera, a cui destini e, per disposizione della Providenza, inscindibilemente legata. Particolare gratitudine esprimo all'On. Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, per le deferente parole che ha rivolto a nome di tutti e per l'impegno che l'Italia ha profusso nella preparazione di questo incontro. Come pure all'On. Antonio Traiani, Presidente del Parlamento Europeo, che ha dato voce alle attesse dei popoli dell'Unione della presente ricorrenza. Ritornare a Roma sessanta anni dopo non può essere solo un viaggio nei ricordi, quanto piuttosto il desiderio di riscoprire la memoria vivente di quell'evento per comprenderne la portata nel presente. Occorre immedesimarsi nelle sfide di allora per affrontare quelle dell'oggi e del domani. Con i suoi racconti pieni di rievocazioni, la Bibbia ci offre un metodo pedagogico fondamentale. Non si può comprendere il tempo che viviamo senza il passato, intesso non come un insieme di fatti lontani, ma come la linfa vitale che irrora il presente. Senza tale consapevolezza, la realtà perde la sua unità, la storia e il suo filo logico, e l'umanità smarisce il senso delle proprie azioni e la direzione del proprio avvenire. Il 25 marzo 1957 fu una giornata carica di attese e di speranze, di entusiasmo e di trepidazione, e solo un evento eccezionale per la portata e la conseguenza storica poteva renderla unica nella storia. La memoria di quel giorno si unisce alle speranze dell'oggi e alle attese dei popoli europei che domandano di discernere il presente, per proseguire con rinnovato slancio la fiducia e il cammino iniziato. Ne erano ben consapevoli i padri fondatori e i leader che, apponendo la propria firma sui due trattati, hanno dato vita a quella realtà politica, economica, culturale, ma soprattutto umana, che oggi chiamiamo Unione Europea. D'altra parte, come disse il ministro degli affari esteri belga SPAC, si trattava, è vero, del benessere materiale dei nostri popoli, dell'espansione delle nostre economie, del progresso sociale, di possibilità industriali e commerciali totalmente nuove. Ma!